e non sembra ma si è che copi sempre ciao ok 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 non è che è bagnato accompagnato è accompagnato è alto poi giù di là c'è un po' di vuoto di qui così sarebbe ideale si l'hai fatto bene l'hai fatto bene è brutto perché se fermo lo vedi sotto però è inclinato però è inclinato si a salire è inclinato prova Luca io ho più di un metro di un metro però questo qua ci va anche al contrario è bello anche al contrario questo qua comunque ti frega perché la coppa la tocchi sempre non è alto ma cazzo sotto c'è il vuoto e allora arrivi lì di coppa